Julian Assange è un uomo libero, o almeno in teoria. Il cyberattivista e fondatore di Wikileaks, che da sei anni vive confinato nel ristretto spazio dell'ambasciata ecuadoriana di Londra, potrebbe andarsene quando vuole, senza il rischio di venire stradato negli Stati Uniti, dove è accusato di spionaggio e rischierebbe la pena di morte. A sostenerlo è stato il presidente dell'Equador, Lenin Moreno, che in un'intervista alla CNN ha affermato di aver ricevuto garanzie dal governo britannico, pur senza fornire alcun riscontro in proposito. Assange in effetti non sembra avere intenzione di abbandonare l'ambasciata. Secondo una nota di Wikileaks, quella di Moreno sarebbe una messa in scena volta a vendere l'attivista agli Stati Uniti in cambio di denaro.